per lui buongiorno allora sembra che la data del 22 novembre stia diventando una data importantissima per la musica pierlu perché avevamo parlato un po di tempo fa di questo nuovo album mina fossati con questi incredibili inediti iscritti niente poco di meno proprio da fossati per mina che ha deciso di cantarli insieme a lui e quindi siamo tutti curiosi veramente di sentire no di vedere sì la copertina sì perché le copertine con mina sono sempre un po particolari però sono curioso di sentire questo grande lavoro con questi nuovi 11 inediti usciranno appunto il 22 di novembre questo album che si amerà semplicemente mina fossati sono curioso di leggere anche i titoli di coda dell'album per vedere sono i musicisti che hanno accompagnato fossati e mina in questa operazione ma il 22 novembre esce anche un altro album incredibile esce il nuovo album dei colplay siamo rimasti tutti un po basiti perché non ci aspettavamo un doppio album dei colplay chris martin e company hanno fatto questo album doppio album doppio due sunset e sunrise cioè capito tipo disco bianco disco nero quindi uno sarà più allegro più solare l'altro sarà un po più dark un po più notturno io non lo so sono curioso di sentire anche sta roba qua a piello quindi ricordati che il 22 di novembre ci abbiamo da fare ci abbiamo da fare ascoltare queste due queste due qui mi viene e mi viene in magone ci abbiamo da ascoltare queste due grandi cose cioè questi due a grandi album ma poi se ne aggiungerà alcun altro perché non c'è due senza tre come si dice e quattro vende a sé quindi per l'appunto il 22 novembre è stato scelto da questi grandi artisti italiani e mondiali nel caso dei colplay per far uscire le loro nuove produzioni allora pierlo a questo punto io direi inventiamoci anche noi una nuova release va bene e schiantiamo laggiù il 22 di novembre almeno si rientriamo a far parte o tu dici le notizie che usciranno relativa a queste due cose o fuscheranno un po la nostra allora aspettiamo vai o la facciamo uscire il giorno prima vediamo un pochettino ok allora ricordate 22 novembre veramente un giorno importantissimo per la musica mina fossati per quanto riguarda l'ambito italiano 11 inediti e il nuovo doppio album dei coldplay ciao pierlu